Lui è figaro, è un gattino di soli 11 mesi e purtroppo si è smarrito nella zona sud di Fano, siamo vicini ai capannoni dei carri di carnevale. Dunque, quando è successo, quando è l'ultima volta intanto che lo avete visto? Sì, è successo il 7 giugno alla Sira, per una piccola distrazione ha preso la porta e comunque lui non si sarebbe mai allontanato dalle scale perché era un gatto un po' spaventato, cioè si spaventava facilmente anche delle altre persone, essendo abituato a stare comunque sempre dentro casa. Però in quel frangente sono passati degli elicotteri, perché noi qui abitiamo vicino all'aeroporto, degli elicotteri da guerra e in quell'attimo il gatto non c'era più. L'abbiamo cercato ovunque, chiamato tutta la notte. Avete anche stampato tanti volantini come questo? Sì, io ho fatto stampare tantissimi volantini come questi, li ho attaccati nei bidoni dell'immondizia, nei pali della luce, nei cancelli. Poche settimane dopo ne ho fatte di stampare un altro cento, li ho messi addirittura dentro le cassette delle lettere, quindi questo volantino molta gente l'avrà già visto. Però io penso che la famiglia che l'ha preso ancora non lo sa, è per questo che oggi ho voluto fare questo annuncio, perché chi l'avesse in casa, chi l'ha salvato, perché comunque l'hanno salvato, devono sapere che lo stiamo cercando. E cioè mia figlia è veramente disperata, tutte le mattine mi diceva mamma ma Figaro non è ancora tornato, ma Figaro quando torna? Mia figlia ha sette anni e praticamente Figaro è il suo compagno di giochi e il suo gatto amatissimo, quindi siamo veramente angosciate per il suo ritorno. Noi come potete vedere qui dalla Lucandina abbiamo messo una ricompensa, un piccolo incentivo per chi ce lo volesse riportare. Cerchiamo anche di descriverlo, è un gatto che è sul marroncino, grigio? Allora Figaro è un gatto, sì, sulla schiena è grigio, sfumato grigio, ha una zampina bianca e una zampina tigrata, ha gli occhi azzurri, è un gatto molto bello, è castrato ed è un maschio. Quando è partito di casa era cicciottino, è bello, è un bel gattone, diciamo seppur 11 mesi è un gattone, lo consideravamo perché è proprio bello, peloso, grosso, ha la coda molto folta. Quindi aspettate un suo ritorno, comunque che qualche famiglia che lo avesse preso si facesse a mano. Io confido molto in questo, confido nel fatto che ancora questa famiglia non lo sa e appunto ci siamo decisi di fare questo annuncio e che sappiano appunto che mia figlia ed io lo stiamo aspettando e non vediamo l'ora di poterlo riabbracciare.